Dare nuove forme all'acqua è da sempre la nostra passione. Quest'anno abbiamo fatto un lavoro enorme, di cui adesso vi presentiamo il risultato. Icona è un passepartout senza tempo. Rispetto, etica e condivisioni sono le parole chiave del progetto Colibri. Il progetto Tern è un prodotto che è nato per non guardare il muro mentre si fa la doccia. Il progetto nasce da una ricerca sulle forme archetife, che sono state tradotte in geometria pura e reinterpretate in chiave contemporanea. Il progetto Tern è un progetto funzionale, rigoroso e bello. Allora, il concetto di nice parte dal DNA della ditta Fantini, vuol dire dei balocchi, di questa esplosione di colore. Da lì volevamo trasformare questo concetto in una cosa molto contemporanea, molto fresca, molto giovane e soprattutto molto sexy. Quasi 40 anni, i balocchi hanno avuto dei figli, i figli hanno lo stesso colore, la stessa voglia di vita e speriamo che abbiano lo stesso successo. Del progetto Tern è più часто positivamente, Grazie a tutti.